Eschilo, il padre della tragedia greca. Eschilo, nato a Delausi, in Grecia, intorno al 525 anno corrente e morto a Gela, in Sicilia, nel 456 anno corrente, è stato un drammaturgo greco antico, considerato il padre della tragedia greca. Le sue opere, caratterizzate da una profonda religiosità e da un forte senso della giustizia, hanno esplorato temi universali come il destino, la colpa e la sofferenza. Le innovazioni di Eschilo. Eschilo è considerato il vero padre della tragedia antica, a lui si attribuisce l'introduzione del secondo attore, che permise un maggiore sviluppo del dialogo e della tensione drammatica. Inoltre, introdusse l'uso della maschera e del coturno, un tipo di calzatura che conferiva agli attori un aspetto più maestoso. Le trilogie e le opere più importanti. Eschilo è l'unico tragediografo di cui ci siano pervenute sette tragedie complete, Persiani 472 a punto C7 contro Tebbe 467 a punto C supplici. 463 a punto C prometeo incatenato datazione incerta. Orestea trilogia composta da Agamennone, Coefore ed Eumeni di 458 anno corrente. L'Orestea è considerata la sua opera più importante. La trilogia narra la tragica vicenda di Agamennone, re di Micene, ucciso dalla moglie Clitennestra e dal suo amante Egisto. I figli di Agamennone, Oreste ed Elettra, vendicano la morte del padre uccidendo Clitennestra ed Egisto. La trilogia si conclude con la purificazione di Oreste e la riconciliazione con le Rinni, le divinità della vendetta. Il pensiero di Eschilo. Le opere di Eschilo sono permeate da una profonda religiosità. Il poeta credeva nel destino, ma anche nella libertà di scelta degli esseri umani. La sua tragedia è caratterizzata dalla tensione tra queste due forze, da un lato il fatto ineluttabile, dall'altro la responsabilità individuale. L'eredità di Eschilo. Eschilo ha avuto un'influenza enorme sul teatro occidentale. Le sue innovazioni tecniche e stilistiche sono state adottate da tutti i tragediografi successivi, da Soffocle a Euripide. Le sue opere continuano ad essere rappresentate in tutto il mondo e ad ispirare artisti e letterati. Oltre alle sue innovazioni teatrali, Eschilo è stato anche un poeta di grande talento. I suoi versi sono ricchi di immagini evocative e di forza espressiva. La sua lingua è solenne e tragica, ma anche capace di grande delicatezza. Eschilo è stato un gigante del teatro greco e uno dei più grandi poeti di tutti i tempi. Le sue opere continuano ad affascinare e commuovere il pubblico di oggi, a distanza di oltre duemila anni dalla sua morte. Ecco alcuni spunti di riflessione per approfondire il personaggio di Eschilo. Qual è il ruolo del destino nelle sue opere? Come Eschilo rappresenta la giustizia divina? Qual è il rapporto tra l'uomo e gli dei nelle sue tragedie? In che modo Eschilo ha influenzato il teatro occidentale? Qual è il valore letterario e poetico delle sue opere? Eschilo è un personaggio complesso e affascinante che offre spunti di riflessione su temi universali come il destino, la colpa, la sofferenza e la giustizia. Le sue opere sono un patrimonio prezioso che continua ad arricchire la nostra cultura.